Allora, le strategie di Netfilia, la principale, la prima, è quella di dare attenzione all'affiliato. La necessità è anche per allinearci rispetto alle esigenze delle campagne, perché generare tanto traffico, se i nudi non sono validi oppure a, perdiamo tempo tutti quanti. Quindi vogliamo allinearci con loro, a seconda del prodotto che stiamo offrendo, proprio per generare meno lavoro e più soldi. Grazie a tutti.